SINERGIE 2019, l'evento dedicato all'immobiliare dei servizi. Sono con Roberto Gisio, Presidente di Coldwell Banker Italy. Un commento a caldo su questo evento. Un commento a caldo. Intanto devo fare i complimenti a Gerardo per questo evento, un evento molto interessante e che ha dato modo di poter conoscere altri colleghi e capire anche dove sta andando il mercato le nuove tecnologie. Quindi ritengo che hai fatto un ottimo lavoro, veramente. Non me l'aspettavo, è la prima volta che partecipo. Certe volte questi eventi vado di corso e invece è stata una bellissima sorpresa. Poi ti conosco da tempo, se fai una cosa a Gerardo è fatta bene sicuramente. Grazie. Allora Coldwell Banker, parliamo un attimo agli agenti di Coldwell. Cosa sta facendo? Io so che state aprendo un bell'ufficio anche ad Alba, so che state lavorando bene nel settore lusso, però in sintesi, cos'è meno, aggiorniamo chi ci ascolta. Allora, cerco di essere molto sintetico. Stiamo facendo uno sviluppo nelle zone strategiche in Italia, Desenzano del Garda, Alba, Torino e altre località, Siena con tutta la parte del Chianti. Questo riguarda lo sviluppo, però volevo toccare un altro tema molto importante di Coldwell Banker. Dopo la giornata di oggi, dove si è parlato di tecnologia, di servizi, di innovazioni, l'ho detto anche prima in un'altra intervista, ho ancora più la consapevolezza che la strada che sta percorrendo Coldwell Banker è quella giusta, perché Coldwell Banker punta sempre più sulle persone, sull'educazione delle persone, sulla qualità e sull'etica che dobbiamo trasferire a chi opererà nel settore nei prossimi anni. La tecnologia sarà a portata di tutti, tutti avranno i stessi software più o meno belli, tutti faranno le valutazioni in automatico, benissimo, ma se noi come azienda di franchisor non cominciamo a, e insistiamo anche sempre di più, sulla scelta delle persone giuste, educarli ad essere dei protagonisti del mercato immobiliare con etica e metterci il cuore in quello che fanno, penso che per il nostro settore veramente poi sia difficile prestare competitivi. Si è parlato di disintermediazione qualche d'uno, a che cosa servono gli agenti immobiliari? Secondo me gli agenti immobiliari avranno un futuro ancora più roseo, se sanno cambiare il loro atteggiamento verso il mercato, avvalendosi della migliore tecnologia, per carità. Io dico sempre in Coldwell Banker che noi vogliamo le migliori persone con i migliori strumenti, è lì che si vince. Roberto ti ringrazio, bocca al lupo per la tua attività e ci aggiorniamo poi nei prossimi mesi. Grazie, grazie a te.